Ci siamo riuniti oggi in questa piazza perché ieri c'è stato l'anniversario dell'invasione dell'esercito russo in un paese indipendente, in Ucraina, in un paese che è molto vicina, è stata molto vicina alla Russia ed è molto vicina geograficamente, culturalmente, da tanti punti di vista. E noi riteniamo questo un atto criminale di un livello internazionale. Noi, la comunità dei rossi liberi, condanniamo questa guerra, condanniamo il nostro governo, il nostro presidente Vladimir Putin. Noi siamo gli ucraini, noi vogliamo la vittoria dell'Ucraina in questa guerra, vogliamo che l'Ucraina sia libera, libera nelle sue frontiere del 1991, quando è diventato un paese sovrano, un paese indipendente. Noi, noi.